Salve a tutti ragazzi ho fatto una scoperta in merito sempre al problema della mia benellina fratturata nel sensore nella valvola IA della regolazione del minimo e stiamo andando io e il mio fido amico da Boscia Motoroma dove ho fatto tutti gli italiani dove ho tutte le fatture ma nell'officina di Rubei mi hanno fatto vedere gli hanno detto che io non avevo questo foglio che in poche parole il certificato con il timbrino sotto che deve essere applicato allegato alle varie fatture quindi me lo devo andare a far firmare perché è importante me lo potrebbero chiedere potrebbe diciamo bloccare la garanzia invalidare la garanzia quindi sempre quando andare a fare dagli andi dal vostro riprenditore realizzato o da dove l'avete comprata fatevi sempre fare questo foglio che sia in questo caso per la benelli in un altro caso sarà per un'altra moto un'altra tipo un'altra marca un'altra tipologia certificato a regimeno Fabrizio certificato benelli con il timbro questo sono tutti i dati della moto quindi andiamo a fare anche quest'ulteriore giro tutto a posto ragazzi sono stato adesso da Boscia Motoroma ma non avevo dubbi mi sono fatto mettere i timbrini eccoli qua quelli che vi dicevo prima e quindi per qualsiasi altra cosa io so a posto anche perché dagli andi da loro l'avevo fatto tutto quanto da loro l'avevo fatto quindi mancava solo questa cosa l'unica cosa è che sono andato da Rubei dove io invece la moto l'ho comprata da Boscia Motoroma però giustamente sempre un rivenditore autorizzato io mi sono trovato lì ad avere il problema in quella zona e io lì lo diciamo mi sono fatto assistere quindi anche questa qui è stata fatta anche questo step attendiamo solo oltre l'ambulanza che passa attendiamo solo che venga convalidata da Pesaro da Benelli ufficiale quindi venga validata la garanzia venga diciamo attuato il piano di garanzia con la riparazione attendiamo vi farò sapere ciao